Quinto posto nella Coppa del Mondo di Lione dello scorso anno. Tu parlavi della Romania che non esce per il momento molto bene da questo campionato d'Europa, però a livello femminile per me l'ha disfatta proprio di questa nazione della Russia che notoriamente hanno avuto grandissima tradizione fino a pochissimi anni fa. A livello europeo erano con le rumene, le leader incontrastate, invece adesso non hanno una ginnasta in grado di vincere una medaglia in nessuna delle specialità, tanto meno il concorso migliorale chiaramente. Questo la dice lunga sulla difficoltà di questa squadra femminile russa. Andiamo a vedere l'uscita, poi considerazione, ecco il doppio flesso. Ho notato che c'è un parallelo.